Il lavoro che di seguito si andrà ad illustrare prevede la realizzazione di una nuova forma di bottiglia di circa litri 1,5, sempre in PET, polietilene e tereftalato. La forma, riconducibile ad un prisma base triangolare, mantiene tutte le caratteristiche delle bottiglie attualmente in commercio, come facile aggregazione, trasportabilità, immagazzinamento, ecc. Il prodotto finale, terminata la sua funzione primaria, potrà essere riciclato per intero, senza essere trattato. L'idea consente di aggregare diverse bottiglie tra loro, medianti donnei collanti, al fine di realizzare una struttura interamente pannellata, già aggregata, in modo da essere velocemente e semplicemente ricomposta in sito, anche da personale non qualificato. La forma, riconducibile a due cubi di superficie complessiva di metri quadri 18, è in grado di sostituire le normali tende in uso durante eventi eccezionali, quali ad esempio un terremoto. Alcune fasce di bottiglie contenenti poliuretano espanso isoleranno la struttura, altre, di colore nero, contenenti acqua e antigelo, contribuiranno a riscaldare l'interno durante le ore più fredde, senza l'utilizzo di elementi elettrici, difficilmente reperibili nell'immediatezza dell'evento eccezionale. La struttura risulta autoportante e isolata. Inoltre, il ciclo produttivo della struttura stessa può considerarsi praticamente a emissioni zero. Grazie. 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 Grazie.